intanto sempre d'obbligo in questi casi ma lo faccio con piacere perché sono contento quindi ringrazio l'organizzazione per avermi invitato soprattutto ringrazio voi per essere qui stasera che evidentemente è lo sforzo maggiore cioè il vostro quello di partecipare di questo sono ulteriormente contento anche se o forse per questo ma decidete voi il tema non è esattamente un tema lieto ma proveremo a non concentrarci soltanto sulla guerra evidentemente cioè non sarà il mio compito questa sera descrivere a partire non sono un analista militare ma insomma descrivere i movimenti sul terreno di questo o di quel mezzo o qualcosa di simile ma come Adriana diceva nell'introduzione poco fa provare a capire non solo a che punto la guerra dove può andare una volta era lo slogan del censimento italiano no chi siamo e dove andiamo proveremo ad applicarlo a questa guerra ma poi vederne alcune conseguenze strategiche quindi è stata citata la Cina o tra gli Stati Uniti ovviamente la Russia stessa che è l'artefice di di questa guerra e noi e poi provare anche a trarne quale qualche lezione cioè che cosa ci ha insegnato questa guerra oltre a ruolo dell'Italia che è molto importante ne parleremo ma proprio come come metodo come conoscenza che cosa ci ha condotto oppure ci ha costretto ad imparare una guerra di questo tipo prima di entrare nelle cose di questa guerra alcune notazioni dei piccoli asterischi di metodo per quanto mi riguarda io mi occupo di geopolitica ma la geopolitica di fatto è un'insalata mista cioè è una disciplina che va di moda e come tutte le discipline è il tutto al contrario di tutto specialmente in una fase in cui come detto è trendy direbbero quelli bravi ma il tipo di geopolitica che tendo a frequentare o nella quale traffico una geopolitica che almeno se ha qualche pregio è quello di stare lontana da un approccio di tipo lideristico cioè che mette al centro i leader o che guarda i partiti alle questioni politiche che quindi si affide essenzialmente a tutto ciò che è visibile agli occhi potremmo dire rovesciando un famoso romanzo francese dell'infanzia ma che almeno per quanto riguarda in quel caso non svolge il suo mestiere cioè prendiamo le ultime elezioni in Turchia se un analista geopolitico risponda alla domanda che cosa succederà in Turchia con aspetta che vedo risultati elettorali titico il suo lavoro diventa molto meno rilevante perché allora basta leggere i giornali che ti raccontano che chi ha vinto chi ha perso un'elezione in base a quello stabilisci cosa sarà evidente che le questioni più complesse cioè le interazioni spesso conflittuali tra i popoli tra le collettività avvengono a livello strutturale di sostanza sotto diremo negli abissi di sotto ciò che è direttamente visibile sotto ciò che è la sua struttura della politica ed è questo quello che proveremo a fare anche stasera senza complicarci troppo la vita fortunatamente per voi non è un corso di geopolitica né tantomeno un mio corso di geopolitica però insomma per capirci non sentirete da me espressioni bislacche del tipo la guerra di Putin che sono semplificazioni giornalistiche o metodologiche che però non esistono nella realtà perché non esiste nulla per quanto riguarda le grandi questioni dell'umanità e ai noi la guerra nella sua schifezza nel suo essere drammatica è una questione dobbiamo saperlo atavica dell'umanità non esiste nessuna di queste che sia la volontà di un solo soggetto di un solo individuo per quanto dittatoriale impresentabile osceno come può essere Putin ma non è questo il punto sarebbe ripeto una semplificazione colpevole della realtà quindi proveremo ad indagare le ragioni di questa guerra quelle profonde definiamole così la seconda notazione di metodo che poi svilupperò nel mio discorso in questa quarantina di minuti che a mia disposizione e quindi la vedremo tra un po' è che dobbiamo un po' abbandonare per capire quello che succede non solo in questo conflitto ma in generale il nostro punto di vista cioè la geopolitica umana che è quella di cui mi occupo principalmente dovrebbe servire a rovesciare il nostro sguardo cioè a calarci nello sguardo degli altri perché se noi applichiamo le nostre categorie ed è molto complicato nessuno ci riesce fino in fondo ovviamente neppure io ma dovremmo evitare di prendere le nostre categorie e prenderle come qualcosa di preta porte che si possa poi applicare a chiunque in ogni contesto in ogni dove che valga sempre è un vizio anche molto grave che abbiamo soprattutto quasi esclusivamente noi occidentali che ci sentiamo di parlare sempre a nome dell'umanità e siamo convinti ma proprio nel profondo anche se non lo diciamo esplicitamente ma lo diamo per scontato che in fondo l'umanità tenda verso di noi cioè che sia destinata a diventare come noi forse ancora non lo sa un po' non c'è ancora arrivata non ha raggiunto usiamo spesso questo termine lo sviluppo che poi conduce al nostro modo di vita ma siamo convinti che avverrà ecco tutto questo non è vero non è che gli altri sono scemi perdonate l'espressione o cretini ancora peggio non hanno capito che noi siamo il fine ultimo della storia e che quindi in senso teleologico devono tendere a noi non vogliono che è molto diverso ma che gli esseri umani da in altre parti del mondo sono meno dotati di noi anzi a volte succede il contrario quindi hanno capito ma non vogliono vivere come noi è qualcosa forse di inaccettabile per la nostra mentalità occidentale ma che è necessario comprendere quando si valutano questioni che trascendono il nostro giardino il nostro orticello quindi perdonate la noia di questi due queste due notazioni di questi due inserimenti queste interpolazioni che ho voluto mettere all'inizio del discorso ma per essere chiari su che tipo di tono per chi quindi è un fortunato una fortunata non si è mai non si è non non è mai incappato con il mio metodo e quindi potrebbe aspettarsi qualcos'altro ecco proveremo ad avere questo tipo di tono stasera di non questioni di tempo adesso non ripercorreremo insieme le cause che sono profondissime di questa guerra che non nasce nel 2022 che tecnicamente nasce addirittura il 2014 con la presa della Crimea da parte della Russia poi questa è una guerra un conflitto totalmente antico che diventa carsico quindi si in abissa poi riemerge 2014 sembrava terminata invece è rimersa in maniera ancora più violenta nel febbraio del 2022 ma non inizia neppure lì ad essere onesto cioè il conflitto d'Ucraina è secolare è antichissimo cioè se per conflitto intendiamo la collocazione dell'Ucraina sullo scacchiere su questo termine un po' vuoto molto semplicemente sul continente europeo perché poi anche l'etimo di Ucraina è terra di confine cioè non ha una denominazione specifica perché è sempre stata posta a cavallo di imperi diversi di civiltà diverse avremmo detto nel corso degli anni e questa guerra nasce davvero da molto lontano se dovessimo semplificarla ma ci serve comunque indagarne le cause antiche perché a che cosa ci serve se non può sembrare il puntiglio di chi questa sera come me non ha niente da fare vuole ripartire da Adam e Deva ci serve perché in momenti in cui tra poco ci chiederemo ma quando finirà che la domanda evidentemente più legittima di tutte e dovremmo che fosse finita non oggi ma ieri possibilmente anche l'altro ieri dobbiamo tenere a mente che se non è una guerra estemporanea non è necessario immaginarla come dire forse può essere anche necessario ma non è possibile meglio immaginarla come definitivamente chiusa anche con il cessato il fuoco che non è tenendo conto una nozione di grande ottimismo ma è tuttavia realistica per non stupirci ancora quando poi questi eventi torneranno a bussare alla nostra porta però vedremo parlando anche di Cina noi cadremo ancora una volta dal pero perché ci avevano insegnato che le guerre non esistono più e che qualora esistessero comunque le economie l'economia le appiana e qui per indagare le cause profonde di questa guerra dobbiamo fare un passaggio questo davvero indispensabile credo mi auguro che chiunque in sala è anche fuori a dire la verità si è aggiunto ci avevo messo un po diciamo noi come umanità ma si è arrivato alla conclusione che gli esseri umani sono tutti uguali grazie a dio questo dovrebbe essere questa dovrebbe essere una conquista che appartiene a chiunque a tutti ma ciò non significa dal momento che gli esseri umani sono come ovvio tutti uguali non significa che abbiano tutti le medesime aspirazioni questo non è vero e altro può essere anche positivo lo è che gli esseri umani abbiano aspirazioni diverse che abbiano una diversità anche di aspirazioni tra di loro ma nella storia i singoli individui cioè io e ciascuno di voi non contano per davvero così come non conta il leader non decide la storia non la informa da solo anche se si apreva un libro di testo questo ci insegnano a scuola no c'è l'era di napoleone prima c'è stata quella di giulio cesare addirittura quella di carlo magno che ci vuole un coraggio speciale e poi tutti i leader quasi sempre uomini peraltro che hanno attraversato la storia ma nei libri di testo c'è quasi mai traccia delle collettività i miliardi di esseri umani che hanno attraversato il pianeta sembra non abbiano lasciato grandi grandi fossili nel senso concettuale della loro presenza e questo non può essere vero ma le collettività che sono ciò che conta cioè le aggregazioni di esseri umani hanno aspirazioni diverse e non tutti vivono come noi la prima domanda da porci quando ci troviamo davanti quando siamo un rabdomante della geopolitica ci troviamo davanti una collettività e chiederci di che cosa campa questa collettività che non è una domanda economicistica non è rispondere come si fa nei libri di geografia a barbapietola da zucchero e che c'è sempre si capisce bene perché ma comunque oppure lo so i cereali eccetera eccetera no di che cosa campa come soddisfazione di sé e quel discorso si complica molto noi che siamo un paese molto anziano e che vive in un campo di influenza altrui non penso di svelarvi una grande verità che siamo nel campo americano ovviamente da molti decenni non ci siamo entrati per scelta ma è probabilmente il migliore di quelli che ci poteva capitare noi che viviamo nel campo americano come ogni satellite di un impero per non edulcorare i termini viviamo di economia tutti i paesi dell'Europa occidentale e un po anche dell'Europa centrale vivono di economia infatti noi siamo convinti che tutto il mondo viva di economia noi ci metteremmo la mano sul fuoco ci occupiamo essenzialmente di economia e indaghiamo il mondo con le lenti economicistiche il problema è che il mondo non vive largamente di economia e soprattutto non vivono di economia le grandi potenze le grandi collettività cioè quelle che sono grandi potenze vivono in maniera esattamente opposta cioè vivono in modo anti economico e allora di che cosa campano e tra questi mettiamo i russi per questo sto facendo questo discorso campano di potenza che sembra un bisticcio di parole ma campano di status campano di una grande idea anche velleitaria sgangherata imperiale di sé della quale si nutrono tutte le grandi potenze ragionano in questo modo per noi è lontanissimo noi siamo convinti come detto che gli esseri umani più o meno vivano tutti come noi infatti le andiamo anche a cercare queste nozioni laddove neppure esistono esempio i russi hanno invaso l'ucraina perché sono interessate le risorse del sottosuolo del donbass ma la russia il paese al mondo oltre ad essere il più esteso del mondo il paese al mondo che ha come risorse accumulate di ogni tipo il più grande bacino di risorse del pianeta ancora ne cerca altre nel donbass può essere una delle motivazioni ma certamente neppure tra le prime dieci di un'invasione come questa oppure prima o poi si fermeranno ci diciamo che anche legittimo voglio dire un proposito di speranza perché le sanzioni economiche che noi applichiamo alla russia che anche noi settiamo sulla nostra pelle come tutti noi sappiamo qui prima o poi li convinceranno i russi a fermarsi perché perché il danno economico è troppo grande e qui continuiamo siamo sempre noi che prendiamo le nostre categorie e le applichiamo agli altri poi i conti ovviamente non tornano e battiamo i piedi e c'è qualcosa che non che non ci convince ma i russi non vivono di economia per essere molto crudi più o meno nelle varie fasi storiche russi hanno sempre avuto un livello di benessere molto basso in alcune fasi si sono letteralmente morti di fame non sono gli unici anche in italia ci siamo morti di fame in fasi della storia nemmeno lontanissime ma il russia è un fil rouge che attraversa la storia non c'è mai stato il benessere neanche lontanamente che possediamo noi e quindi dell'assenza di quel benessere non hanno contezza e non hanno nessuna nostalgia di un benessere che non hanno conosciuto quindi ha voglia applicare le sanzioni ma ancora più rilevante non vivono di economia cioè i discorsi di che cosa campano della convinzione di essere una grande potenza cioè del dire noi siamo rispettati siamo temuti all'estero facciamo quello che vogliamo imponiamo la nostra volontà siamo nei libri di storia noi sono discorsi lontanissimi ma esattamente ciò che muove una collettività profondamente imperiale e storica come quella russa che peraltro ha un senso di sé paranoico cioè quando Putin dice ai russi è l'occidente che è cattivo e ce l'ha con noi e se noi non avessimo invaso l'ucraina peraltro non usa questi termini come sapete non si definisce neppure guerra quella l'ucraina ma operazione militare speciale ma se noi non avessimo invaso l'ucraina domani il medesimo atto lo avrebbe compiuto l'occidente i russi ci credono per davvero non perché sono scemi perdonate di nuovo l'espressione oppure come anche qui con un escamotage diciamo perché c'è la propaganda e non capiscono sono perfettamente che ciò che dice Putin non è la verità non sono appunto scemi ma ciò che dice Putin tocca le loro corde profonde le corde della maggioranza della popolazione per cui l'occidente visto dalla russia è cattivo per davvero e hanno anche delle ragioni storiche per crederlo oggi nessun paese occidentale voleva invadere la russia neanche adesso né tantomeno l'ucraina non sta in piedi non c'era ragione per invadere l'ucraina ma nella testa dei russi nella loro paranoia l'idea che nel corso dei secoli l'occidente abbia più volte non l'occidente è un luogo dell'anima non esiste ma le potenze occidentali abbiano più volte invaso la russia è un fatto storico che dunque non si possano fidare per loro è una certezza perché anche qui il principio di causalità è rovesciato non è putin che ha creato la russia contrario è la russia che ha creato putin cioè putin è russo non è la russia che è putiniana questa distinzione che può apparire banale è fondamentale ed è più o meno sconosciuta nel discorso anche analitico che si realizza che si conduce anche su una guerra come questa anche aprendo un giornale si legge spesso la guerra di putin certo putin è il signore che ha scritto il pulsante rosso il signore che ha lanciato la guerra quindi ha chiaramente le sue colpe anzi alle colpe maggiori ma non vuol dire che abbia inventato l'idea che i russi hanno dell'ucraina o di questa guerra perché altrimenti la semplificazione diventa fuorviante dicevo questa guerra viene da lontanissima adesso faremo una carrellata veloce perché non abbiamo il tempo ma una parte l'ho già citata implicitamente dalla storia i russi vivono su questa immensa pianura che il basso piano sarmatico che va dal fiume il basso nel cuore della germania fino agli urali quella catena di montagne che di storici un po meno ma i geografi si forma convenzionale definiscono il confine dell'europa non sono confine di niente ma per capirci su questa immensa pianura i russi vivono almeno da un millennio e mezzo e vivere su una pianura rende tutte le popolazioni incline alle invasioni questa parte d'italia come un po tutto il nostro paese sebbene questa sia pianura davanti a sé però la più importante catena di montagne del continente cioè le alpi che da sempre una barriera difensiva importantissima ovviamente uno dei momenti più scioccanti della storia dell'umanità quando avviene quando annibale con i cartaginesi attraversa le alpi e non si pensava che fosse possibile gli italici di allora ovviamente erano romani ne rimasero sconvolti anche qui che non si immaginavano mai che potesse essere possibile perché le catene cioè i rilievi la parte orografica si dice di un territorio dovrebbe impedire l'invasione non sempre ci riesce ma averlo conviene la russia non ce l'ha quindi ha subito notevoli invasioni gli italiani non l'italia ma nelle varie declinazioni anche da italia almeno due volte anche da italia hanno invaso la russia sei volte l'italia addirittura invade la russia nella testa dei russi e lo è davvero due volte nell'arco di trent'anni anzi meno tra la rivoluzione d'ottobre e la seconda guerra mondiale l'italia durante la seconda guerra mondiale invade l'unione sovietica ne siamo consapevoli poi affascinante come noi mette la storia non la studiamo per carità ma è affascinante come noi abbiamo scoperto nomi di questa guerra che certamente non conoscevamo ma che avremmo dovuto ad esempio danietz che è il capoluogo dell'oblast omonimo siamo nel donbass è una città che si chiamava stalino durante la seconda guerra mondiale perché può dire città di ferro no anche stalin il nomignolo indicava l'uomo di ferro ecco gli italiani a danietz che sono morti a grappoli durante la seconda guerra mondiale molti anche provenienti da questo territorio dovremmo conoscerla molto veramente non ci interessa niente per carità lungi da noi ma sono territori che noi dovremmo appunto conoscere che i russi soprattutto si ricordano nella loro testa questo c'è come tutti gli imperi anche i russi sono ossessionati dalla storia gli imperi sono tutti ossessionati dalla storia se la raccontano la manipolano non esiste una verità storica assoluta tantomeno negli imperi e quindi il ricordo di ciò che è stato è una paranoia ripeto oggi nessuno voleva invadere la russia nessuno pensava mai neanche lontanamente di insidiarla ma vogliela spiegare la storia ha insegnato loro qualcos'altro e uno qui qualcuno potrebbe obiettare beh ma l'ucraina che c'entra l'ucraina su malgrado c'entra nella testa dei russi perché l'ucraina è il cuscinetto per eccellenza della russia è ciò che rende più sicura la russia per eccellenza che fa dormire di notte i russi perché perché se tu esisti su un enorme spazio pianeggiante tutto ciò che puoi fare allontanare date la prima linea difensiva come se fossimo in un videogioco no come se tu potessi avere una vita in più io sbaglio in un altro territorio che non è il mio direttamente ma è un cuscinetto in questo caso l'ucraina e poi rinculo verso il mio territorio e posso sbagliare una seconda volta se sbaglio direttamente sul mio territorio sono fritto e anche qualcosa di più le guerre i russi le hanno sempre subite con questo elastico quindi riescono ad arretrare facendo rallentare l'avanzata in ucraina e poi loro vanno a ritroso come è successo con napoleone come è successo con noi ma soprattutto con i tedeschi ai quali noi eravamo associati ovviamente alla seconda guerra mondiale e poi rimontano e respingono l'invasione spesso in ucraina la svezia che oggi può sembarci soltanto un alleo di allegro la svezia no ma un paese molto civile e certamente dedito ai mobili da montare a casa è stata anche una grande potenza imperiale qualche secolo fa adesso non lo è ovviamente più ha smesso di esserlo quando quando nel diciottesimo secolo è stata definitivamente sconfitta dalla russia che aveva invaso e dove viene sconfitta dove c'è la battaglia decisiva poltava che al momento il discrimine nella storia degli svedesi quando vengono sconfitti definitivamente dai russi nell'attuale ucraina ovviamente e la storia è zeppa di eventi come questi per la russia quindi l'ucraina ha un valore storico di sicurezza per i russi eccellente e così aggiunge un altro elemento che è la base di questa guerra cioè se i russi vivono di potenza l'idea di riprendersi un territorio che hanno smesso di controllare da alcuni anni ma che nella loro testa è il loro poi arriveremo agli ucraini voleva dire segnalare di nuovo al mondo che per i russi il mondo è l'occidente i russi hanno si rivolgono sempre all'occidente e noi siamo ancora una grande potenza e dovete fare i conti con noi non potete imporci la vostra volontà tutto questo come vedete è talmente antico che Putin lo ha preso anche per affari propri lo ha maneggiato e poi lo ha rilanciato ma non l'ha certo inventato che complica mi rendo conto la situazione sarebbe molto più semplice se tutto questo fosse un incubo realizzato da un dittatore ed è certamente un dittatore Putin e tra i peggiori quindi eliminato Putin il problema è risolto ai noi non è così non solo perché esistono e siamo esseri umani dovremmo saperlo esistono questioni irrisolvibili la para filosofia la super filosofia dice un problema che non ha soluzione smette di essere un problema insomma non sempre no la morte è un problema senza soluzione ma non per questo smette di essere un problema esistono questioni tra collettività tra popoli così per avere un tono più aulico che non sono risolvibili fino in fondo e che non non basta eliminare un soggetto per risolverle avete notato che nei discorsi in questo momento ho provato a calarmi nello sguardo dei russi loro discorsi non c'è mai l'Ucraina in quanto tale cioè gli ucraini non rientrano nei ragionamenti dei russi davvero per loro non esistono non è un iperbole cioè se ne infischiano totalmente di ciò che vogliono ok i russi vogliono questo territorio perché è un cuscinetto lo vogliono perché storicamente lì si sono difesi perché serve a loro per ribadire che sono una grande potenza potremmo metterci anche altro perché l'Ucraina nella testa dei russi è l'ultimo baluardo contro l'occidente cattivo ma quello che vogliono gli ucraini ai russi non interessa niente ma gli ucraini dove vogliono stare come vogliono vivere ai russi questo non interessa anzi il russo medio di qualsiasi estrazione di non necessariamente di una basso livello sociale ma anche di alto livello nel momento di intimità di solito te lo dice che l'Ucraina non esiste ma ne sono convinti per davvero invece l'Ucraina esiste ha una sua storia ha una sua popolazione eccetera ma ti direbbero di no anzi la lingua ucraina per i russi è più o meno un dialetto che non ha una sua dignità che non deve essere presa sul serio anzi dovrebbe essere abbandonata mettiamoci anche che il russo è da sempre la lingua da sempre no ma da molti secoli la lingua veicolare dell'Ucraina perché la lingua imperiale la lingua del più forte e quindi gli ucraini sanno tutti parlare russo ovviamente è da sempre la lingua con cui un ucraino di Kharkov che oggi si chiama Arkhiv che è la seconda città più popolosa del paese che è soltanto russofona cioè soltanto di lingua russa la lingua con cui comunica con un ucraino di Leopoli c'è la parte occidentale del paese in Galizia che parla anche ucraino ma sa parlare anche russo per i russi questa è sempre stata la prova che l'Ucraina non esiste si chiama bilinguismo per questo l'Ucraina non esiste questo per dire che poi un popolo imperiale come come quello russo se ne infischia della volontà del suo vicino anzitutto viene la sua sopravvivenza sia mentale che territoriale che militare ecco una guerra di questo tipo nasce in questo modo ed è talmente antica che si è tramutata velocemente per la Russia in una guerra esistenziale anche per l'Ucraina ovviamente ma se riusciamo a capire di più la posizione degli ucraini perché comunque si stanno stanno combattendo per mantenere il proprio territorio anche una una forma più o meno parziale di sovranità fatichiamo di più a capire la guerra russa anzitutto perché è ingiusta un'aggressione ai danni di un paese che ripeto non aveva fatto niente alla Russia in questo momento storico ma poi perché nella testa dei russi come detto questa è una guerra esistenziale perché questo davvero non lo riusciamo a comprendere dopo questa guerra c'è il diluvio avrebbe detto Mitterrand cioè nella testa dei russi è l'ultima grande occasione per rimanere una grande potenza per impedire all'occidente di entrare dentro casa della Russia qui ci togliamo subito un dente perché tra le varie ragioni di questa guerra come sapete è spesso ribalzata a quella di dire è colpa soprattutto o anche della Nato che per usare un'espressione che ha riportato Papa Francesco è andata ad abbagliare sulla soglia sulla soglia sull'uscio della Russia è così è vero proprio è andata proprio in questo modo la Nato è arrivata ai confini della Russia questo è un dato di fatto i tre paesi baltici ad esempio quindi Lettonia, Lituania, Estonia che non erano satelliti dell'impero russo alla sua massima altezza cioè l'Unione Sovietica erano proprio dentro l'Unione Sovietica non erano non erano come la Polonia o la Romania erano proprio parte integrante dell'Unione Sovietica oggi sono membri della Nato ma non è che la Nato ha costretto questi paesi ad entrare nella Nato con la forza non è che ha puntato la pistola alla tempia agli esterni ha detto se non aderite alla Nato noi vi bombardiamo è stata una libera adesione di queste popolazioni che hanno scelto di entrare nella Nato quindi il rimproverare gli Stati Uniti che sono ovviamente il perno senza nascondercito di un dito la Nato è roba loro nella quale noi ovviamente siamo fin dalla sua fondazione gli Stati Uniti potevano anche dire fermiamoci prima non vi prendiamo dentro la Nato perché questo andrà ad insolentire la Russia potevano farlo anche insieme agli altri membri certo che potevano ma non avrebbero rispettato la volontà popolare di questi paesi che in maniera genuina chiedevano di entrare quindi non è stata la Nato non si è imposta a nessuno e oltretutto questo se non è che gli americani siano una ONG non è che gli Stati Uniti d'America facciano questo di mestiere attenzione poi nella loro propaganda sono un impero anche gli americani hanno la loro propaganda non sono certo gli unici loro agiscono per il bene un po' ci credono un po' no sono esseri umani un po' ci credono davvero a volte fanno anche del bene a volte molto meno gli americani hanno interesse ad avere la Nato in Europa perché questo poi consente loro anche di avere un controllo sul territorio europeo come come evidente ripeto sono un impero non sono una ONG avrebbero potuto fermarsi prima ma ripeto ancora una volta non avrebbero rispettato la volontà popolare di questi paesi sui quali ancora una volta non è stata la Nato ad imporsi ma il contrario cioè c'è stata una libera adesione all'Alleanza Atlantica quindi questo credo fosse un passaggio che andava affrontato allora questa guerra esistenziale e così drammatica a che punto è e quando può finire potremmo anche rispondere ad un'ulteriore domanda di tono sportivo chi sta vincendo chi sta perdendo la domanda legittima noi su domino ci occupiamo come inevitabile quasi tutti i mesi poi una rivista geopolitica si occupa ogni mese anche di temi diversi dalla guerra ma la guerra ritorna sempre e tra questa in questo occuparcene ci sono sempre anche le domande del quando finisce chi vince eccetera sul quando finisce ce la potremmo cavare direttamente con un algoritmo che non lo so che è sempre utile in questi casi ma chi io non ne abbia idea può andar bene o andar male non ne hanno alcune idee agli attori coinvolti e anche questo purtroppo non ci deve stupire perché la guerra non è una manifestazione sportiva anche se a volte la scambiamo in maniera davvero colpevole per una manifestazione sportiva quindi non ha un inizio deciso e una fine decisa come ha una partita di calcio la guerra è una bestia che quando inizia non si controlla e può arrivare davvero a qualsiasi evoluzione anche la peggiore la più nefasta oggi in questo momento siamo in pieno della cosiddetta controoffensiva ucraina che era molto attesa ed è cominciato ormai lo si dà per scontato da alcune settimane perché era così attesa da tutte le parti perché non c'è ancora stata dall'inizio della guerra una controoffensiva vera e propria degli ucraini o almeno non in queste proporzioni e alla suo termine dovrebbe servire per stabilire dove sono arrivati cioè quanto territorio possono recuperare quanto male possono fare i russi quali difficoltà possono infliggere all'invasore una volta scoperto questo si pensa ma appunto è una supposizione non c'è niente di certo che possa arrivare il momento della consunzione della guerra quindi uno scadere di intensità quasi fisiologico e poi il sedersi ad un tavolo ed intavolare per l'appunto un negoziato ma è una supposizione prima è stato citato il cardinale Zuppi che presenta la conferenza episcopale italiana che è stato inviato da Papa Francesco proprio in questi giorni a Kiev per discutere di una mediazione di una possibilità di un cessato il fuoco eccetera la risposta che ha avuto dal governo ucraino è esattamente questa prima vediamo dove arriviamo vediamo dove arriva la nostra controoffensiva e poi ne parliamo quindi dobbiamo attendere un mi ando conto una grande prospettiva ma dobbiamo attendere questi mesi di controoffensiva o settimane è davvero impossibile stabilirlo con certezza oggi per poi vedere a che punto siamo ma allargando il campo dalla guerra visto che tempo a disposizione non è infinito e abbiamo deciso di inserire giustamente anche le grandi questioni del nostro tempo in una guerra così per introdurle dobbiamo per forza rispondere all'altra domanda sportiva a cui facevo riferimento quella del chi vince e chi perde sul piano tattico la guerra anche se ci potrà sembrare un po' strambo la stanno vincendo i russi e questo davvero ci può suonare strano un po' perché abbiamo sentito in tutte le salse che i russi la stanno perdendo la stanno perdendo molto male e un po' perché è evidente che non stiano dando una grande prova militare anzi il contrario e allora qualcuno può dire ma come mettiamoci d'accordo dobbiamo distinguere tra due dimensioni quella tattica e quella strategica io prima ho detto sul piano tattico la guerra la stanno vincendo i russi sul piano strategico la stanno perdendo molto male ed ovviamente del piano strategico quello che conta più di quello tattico adesso senza entrare nella distinzione nella definizione dei due piani perché non ci interessa in questa sede ma con una riduzione di complessità piano tattico tutto ciò che è facilmente misurabile anche in modo matematico matematica è sempre la parte semplice delle questioni la parte umanistica è solitamente quella più complicata ma io sono legato alla parte umanistica quindi sono sono di parte evidentemente ma sul piano tattico i russi la guerra la stanno vincendo è crudele ma questo è perché hanno occupato ancora conservano territori che prima appartenevano all'ucraina e che adesso sono nella loro disponibilità è proprio un dato matematico quindi che cosa hanno tutto l'oblast di lugansk due terzi di quello di danietz che sono i due oblast che compongono il donbass metà circa dell'oblast di zaporizia e poco meno della metà dell'oblast di kerson che è tagliato dal delta del fiume di nipro che è quasi diventato un confine naturale tra le parti dominate da russi e quella ancora controllata dagli ucraini ma sul piano strategico abbiamo detto sul piano strategico la russia la sta perdendo molto male la guerra perché è perché il piano strategico è la dimensione che poi decide la traiettoria di un popolo e soprattutto ne stabilisce il valore geopolitico proprio di potenza e questa guerra non è certo un trionfo per la russia anzi è una sconfitta strategica per quale ragione possiamo cominciare nel misurare il clivaggio cioè la distanza che esiste tra i propositi iniziali della russia e ciò che è stato ottenuto la distanza è molto grande proposito iniziale della russia era rovesciare il regime di chiev metterne un altro fantoccio filo russo comandarlo da remoto come era avvenuto fino al 2014 con quello di yanukovic che era un uno spin off di putin si direbbe se fossimo una serie televisiva e poi e poi smilitarizzare l'ucraina e poi allontanarla dalla nato e poi utilizzarla come cuscinetto tutto questo non solo non è avvenuto non sta avvenendo ma molto probabilmente non avverrà e quindi la distanza tra gli obiettivi qualcuno dirà meno male ovviamente tra gli obiettivi della russia e quello che è stato ottenuto è molto grande ma c'è anche dell'altro se è vero come ci siamo detti all'inizio che la russia ha cominciato questa guerra anche per ribadire a se stesse al mondo di essere una grande potenza beh oggi l'immagine che la russia ha di sé e che irradia sul resto del pianeta è un'immagine immediata cioè diminuita rispetto a quella di un anno e mezzo fa nettamente diminuita la percezione della potenza russa per essere più crudi che si ha in giro per il mondo è nettamente inferiore rispetto al 23 febbraio del 2022 a poche ore dall'inizio dell'invasione perché la russia ha mostrato una condotta di guerra sgangherata molto difficoltosa che oggi la rende meno paurosa di un tempo e poi la russia voleva dimostrare che la nato fosse per riprendere una celebre espressione di macron celebramente morta ma però lo diceva ovviamente da francese quindi gongolando putin voleva dimostrare con questa sua ultima iniziativa che la nato fosse anche morta a livello cardiaco bene la nato non se la passa straordinariamente ad essere onesti ma si va allargando addirittura ha di fatto accettato l'ingresso della finlandia tra i suoi membri e adesso finite le elezioni turche dovrebbe arrivare dopo questa lunga anticamera turca i danni della svezia anche l'ingresso della svezia non esattamente quello che sognava la russia prima della guerra e poi l'idea era quella di allontanare l'ucraina dalla nato adesso nell'orizzonte ottico che abbiamo davanti l'ucraina non entrerà nella nato ma è quasi insignificante perché la nato è ampiamente entrata nell'ucraina che non era certo l'obiettivo dei russi ma c'è un ulteriore passaggio che ci conduce a allargare il campo perché da quando la guerra è cominciata la russia ha scarrellato nettamente verso la cina fino a diventare ciò che oggi un socio di minoranza del sistema cinese come se l'orso russo si fosse inserito nelle fauci del dragone cinese e questo è tutto tranne che un proposito apprezzato dai russi contrario perché la russia ha un'idea di sé da grande impero e quindi fare il paggetto di un altro impero è drammatico e perché di tutti gli imperi quello cinese ai russi non piace per niente anzi russi sono un popolo razzista nel profondo lo sono quasi tutti gli imperi a dire la verità e per i russi i cinesi non sono al loro livello non hanno la medesima dignità per essere molto onesti il tono razzista è molto profondo i russi quando khrushchev che era un signore russo così così ma guidava l'unione sovietica andò in visita per la prima volta nella repubblica popolare al suo rientro a mosca a domanda diretta dei suoi accoliti com'è la cina la risposta fu fulminante è cinese secondo lui aveva detto tutto ecco i russi e cinesi non sono amici non lo sono mai stati non lo saranno mai per i cinesi i russi sono bianchi e anche lì la connotazione non è positiva come potete immaginare sono bianchi che vivono in asia cioè in siberia e sono degli abusivi che dalla siberia se ne dovranno andare i russi sono in siberia da circa tre quattro secoli a seconda da dove cominciamo a contare nella memoria muscolare cinese è molto poco e non vi resteranno per sempre adesso che i russi tra cento anni abbiano ancora la siberia possiamo definirlo improbabile anche noi peraltro una previsione da qui a cento anni potete immaginare al grande vantaggio che io non ne risponderò tranne miracoli quindi risponderanno i miei nipoti che potranno ovviamente rivalersi sul principio del nostro diritto la responsabilità è soggettiva noi neanche c'eravamo quindi va bene così ma la russia che è un paese di cento quaranta milioni di abitanti profondamente spopolato in siberia che ha sotto di sé uno dei due paesi più popolosi del mondo la cina e che vive in un continente con il suo cioè l'asia che abbia la siberia tra un secolo non è per niente scontato e questo i cinesi lo sanno e tutto questo non è un vantaggio strategico per la per la russia la russia negli ultimi mesi ha venduto tutto ciò che ha di meglio cioè grano e gas a prezzo scontato la cina non è per niente uno sviluppo positivo per la russia di questa guerra anzi è un dramma strategico non è qua anche quando fingono in questi bilaterali tremendi si jinping e putin quindi brindano a questa amicizia senza limiti eccetera non si amano per niente poi hanno un nemico comune che sono gli statuti d'america o l'occidente in senso lato ma l'occidente non esiste lasciamolo da parte gli statuti d'america esistono ce l'hanno il loro nemico comune e le leghe nella storia sono sempre state composte da nemici quando hanno un nemico più grande davanti a sé prendiamo abbiamo citato la seconda guerra mondiale la seconda guerra mondiale russi americani erano alleati contro la germania anche contro l'italia sebbene in maniera minore così come erano addirittura alleati durante la seconda guerra mondiale russi e inglesi i due popoli che si odiano di più di russi e inglesi non ce ne sono moltissime al mondo doveva arrivare ai cinesi e giapponesi ci siamo livelli molto alti eppure hanno combattuto due guerre mondiale addirittura insieme dalla stessa parte perché hanno sempre avuto un nemico principale davanti così come hanno combattuto insieme contro napoleone oggi i cinesi e russi sono nella stessa situazione qui vedete che il discorso si allarga perché la domanda immediatamente successiva è ma per leggere moni planetari cioè per la prima potenza del mondo per edulcorare gli statuti d'america questa guerra è un successo o meno la valutano come una prova positiva o no ripeto non dobbiamo stupirci di una valutazione amorale di questo tipo perché ovviamente dovremmo dire le guerre sono tutte negative che qui dovremmo esserci arrivati tutti anche a questo ripeto le grandi potenze fanno un altro mestiere anche se sono composte di esseri umani comunque tendono alla potenza quindi valutano la guerra anche con un ragionamento di tipo strategico non solo umanitario ha spesso diciamo così mettiamola a volte più che spesso per niente umanitario a dire la verità ma va bene anzi va male ma per adesso mettiamolo da parte gli americani sono soddisfatti della prova di forza che hanno mostrato in italia c'è questo filone per cui si annunciano gli americani in declino da sempre sono morenti c'è un profondo antiamericanismo che quindi che è comprensibile insomma avere nel cuore un egemone c'è la prima potenza del mondo ci sta che abbia come prima potenza del pianeta molti detrattori è normale fa parte delle cose umane ma gli stati uniti comunque in questa guerra hanno mostrato una prova di forza non da poco perché perché in surplus si direbbe nel ciclismo cioè stando sui pedali senza neanche sforzarsi hanno condotta all'impantanamento la russia nel suo dossier più strategico non esiste paese più importante al mondo dell'ucraina per la russia nessuno ma neanche lontanamente la libia che il paese più importante al mondo per l'italia di cui infatti non sappiamo niente non ci interessa niente sogniamo la mitte l'europa non esiste paese più strategico della libia per questo paese cioè il nostro che ci piace o meno anche per chi sogna l'austria ungheria nei suoi momenti di delirio non è paragonabile a quanto è importante l'ucraina per i russi ecco lì i russi sono impantanati con quattro armamenti quattro ovviamente un iperbole ma nel senso di quantità davvero modesta che gli americani hanno consegnato agli ucraini ma iper tecnologici come i russi non hanno e fornendo agli ucraini intelligence militare addestramento suggerimenti politici impianto mediatico cioè l'impianto mediatico più sofisticato del mondo tenesco il signore di grande coraggio e di grande comunicazione ma era difficile arrivare a queste vette di comunicazione senza l'apparato mediatico americano che non è pareggiabile nessun luogo del pianeta questo è bastato da remoto la parte americana per far impattanare la russia c'è un però qui si inserisce un'avversativa che quanto ho detto poco fa agli americani che la russia sia diventata il socio di minoranza del sistema cinese non funziona non conviene e questo non li convince per niente perché gli americani hanno davanti a sé due nemici principali uno che è il più pericoloso ovviamente oggi la cina ma il secondo è la russia e la grammatica strategica non ci vuole esattamente un genio ti suggerisce che se tu hai due nemici non li devi affrontare insieme non ha senso se hai l'opportunità devi dividere il campo di prendere il più debole giocarlo contro il più forte cioè dovrebbero avvicinare i russi e giocarli contro i cinesi peraltro i russi correrebbero a braccio aperto perché tra cinesi americani i russi scelgono sempre gli americani perché gli americani sono assolutamente più lontani geograficamente quindi fanno meno paura dei cinesi non stanno sotto la siberia stanno dall'altra parte del mare peraltro vivono in una depandanza del nord america che è l'alaska che è stata venduta dai russi agli americani come immagino sappiate il nome alaska è chiaramente un nome russo e poi e poi russi correrebbero verso gli americani perché perché sono già stati con loro in alcuni frangenti della storia citavo la seconda guerra mondiale e non si sono trovati malissimo anzi e poi gli russi sono bianchi e il loro razzismo li conduce verso quella direzione per essere molto onesti tuttavia in questo momento gli americani si trovano ad avere due nemici che si stringono fra di loro anziché dividerli e non è un proposito che questa guerra sta dipanando favorevole agli statuniti d'america per capirci durante la guerra fredda come immagino sappiate gli americani hanno fatto esattamente il contrario un signore che qualche settimana fa ha compiuto cento anni beato lui un signore tedesco bavarese che si è con un forte accento tedesco si è americanizzato da tempo e si chiama enri kissinger fu l'artefice è stato un grande tattico un po meno un grande strategico richiesto ma certamente un grande tattico che nel 71 aprì alla cina fece esattamente questo percorso all'epoca il più debole era la cina la più forte era la russia che si chiamava unione sovietica prese la cina e la giocò contro l'unione sovietica divise il campo dei nemici lo partì si direbbe con un latinismo cioè lo ne fece una partizione e questo fu decisivo poi i russi si impantanarono in afghanistan si spaventarono di una fixio cioè di una finzione americana che erano le guerre stellari conta anche questo tra le potenze no l'america allora reganiana si inventò un riarmo che non aveva i mezzi per realizzare ma è come il blef nel poker per andare a vedere il blef dell'altro devi avere coraggio e i mezzi non sovietica stava implodendo vide il riarmo annunciato e le guerre stellari annunciate dagli stati uniti come un ulteriore passaggio che non poteva seguire e mise giù le carte e si consegnò senza perdere una guerra l'unione sovietica implose ovviamente nel 1991 finì ufficialmente e dalla ragione per cui come sapete in occidente Gorbaciov è ritenuto più o meno un eroe in Russia non può neanche girare per la strada non poteva poverino adesso non c'è più perché era in viso e ci teniamo bassi alla popolazione perché accusato di aver consegnato l'impero all'occidente e qui si inserisce un altro elemento che è la seconda notazione di metodo che vi avevo promesso oppure minacciato questo decidetelo voi all'inizio cioè su che cosa ci ha insegnato questa guerra ci ha insegnato che sembra una banalità ma evidentemente non lo è che l'occidente non è il centro del mondo ma tanto non riusciremo mai a togliercelo dalla testa forse anche legittimo siamo stati a lungo il centro del mondo non esserlo ci torna un po' strano e soprattutto non conosciamo granché gli altri quindi conoscendo soltanto noi anche pochino noi stessi come sempre capita a chi conosce soltanto una realtà si ci si convince che il mondo sia tutto qua no questo è uno faccio ruffiano questo è uno dei luoghi più belli d'italia più ruffiano di così si muore ma comunque lo è ci si può anche convincere che basti avanzi non ci sia molto altro da vedere ovviamente il mondo ha molto altro forse non bello esattamente come questi luoghi ma ha molto altro più o meno vale anche quando noi guardiamo agli altri paesi con occhi geopolitici infatti se noi vediamo la narrazione di questa guerra fatta in occidente c'è stato detto più volte che la russia isolata abbiamo isolato la russia la russia è diventata sola al mondo è condannata dall'umanità abbiamo sentito queste espressioni poi noi andiamo a vedere i voti insieme all'assemblea generale delle nazioni unite che è un luogo onirico nel senso non immaginiamo un parlamento non esiste il governo del mondo non esiste il parlamento del mondo queste sono sciocchezze luogo dove si edono tutti i paesi con tutti gli stati riconosciuti sul pianeta e ognuno ha diritto ad un voto sono tutti alla pari anche per questo non conta niente l'assemblea generale ma ha un valore simbolico ebbene le due risoluzioni di condanna dell'invasione russa dell'Ucraina che si sono tenute a febbraio dell'anno scorso e ad un anno di distanza se ne andiamo a vedere i paesi che si sono astenuti dal condannare la russia o addirittura hanno votato in favore della russia ne prendiamo la popolazione scopriamo che la maggioranza dell'umanità siamo oltre i 4 miliardi di esseri umani rappresentati adesso essere isolati con 4 miliardi di persone che non ti votano contro è un po' complicato basti pensare che chi si astiene e sostiene di fatto la russia ampiamente in questa guerra cina e india fanno già quasi 3 miliardi di abitanti ci si può sentire soli anche fra tanta gente ma insomma con 3 miliardi di abitanti un po' meno a volte sono anche troppi diventano come quei parenti che non se ne vanno mai però stanno lì e dal nostro punto di vista no noi sembriamo come gli inglesi all'incontanza anzi gli inglesi portati al parossismo sapete che quando gli inglesi si affacciano a dover di sullo stretto sulla manica e vedono la foschia dicono il continente isolato ecco noi sembriamo uguali cioè la russia isolata parliamone l'iran non ha condannato certo la russia che è un grande impero quasi 100 milioni di abitanti c'è formalmente condannato la russia ma non perdono un giorno per farci affari o per dare tutte le colpe all'ucraina il brasile ad esempio la turchia israele sono paesi israele piccino gli altri due molto meno il brasile è il gigante dell'america dopo gli stati uniti la turchia è un grande impero da sempre ecco dal nostro punto di vista occidentale questo non lo cogliamo non ci interroghiamo sul perché la maggioranza dell'umanità non stia per niente dalla parte dell'ucraina ma non perché abbia in simpatia l'atteggiamento della russia che riconosce come un atteggiamento predatorio e ingiusto come ovvio ma ancora meno in simpatia l'occidente cioè noi e quindi l'ucraina che è sostenuta dall'occidente già questo non piace che a noi questo piaccia o meno è un dato di fatto non solo per molti dei paesi che ho citato dall'africa all'america latina all'asia questa è una roba tra bianchi e come ad esempio spesso si sente dire anche dal governo sudafricano come quando capitano le cose in africa e nessuno gli occidentali si mette a distinguere tra una e l'altra fazione noi facciamo lo stesso con voi e dal momento che a difendere dal loro punto di vista l'ucraina c'è il paese ipocrita per eccellenza cioè gli statuniti d'america che intervenire che interviene in maniera selettiva anche nei paesi altrui quando vuole l'iraq l'afghanistan eccetera perché noi dovremmo curarci rispondono se qualcun altro fa lo stesso peraltro in casa vostra e neanche in casa nostra questo sdoppiamento del punto di vista che noi suona lunare appartiene alla maggioranza dell'umanità ed è qualcosa che noi proprio non riusciamo a prendere fra le mani se noi vediamo anche i paesi che applicano le sanzioni alla russia siamo solo noi è solo l'occidente allargato quello che fa perno sugli stati uniti d'america il resto del mondo no ma il resto del mondo è nettamente la maggioranza è una lezione che una guerra come questa dovrebbe averci dato cioè che è necessario immaginare una volta non lo chiamavo il resto del mondo prima ancora il terzo mondo si chiamava durante la guerra fredda oggi a questa dizione un po ridicola sud globale che adesso sud globale più a nord della russia non c'è niente però l'hanno chiamato così e ce lo teniamo così la corea del nord che è la peggiore dittatura del mondo non è però del sud globale è nell'emisfero boreale ampiamente e potremmo proseguire però noi ci nascondiamo dietro queste formule perché la realtà cioè che la maggioranza dell'umanità è non una sua parte e basta non ci piace così come a volte questo viene derubricato con un escamotage di tipo politico istituzionale sì dice il politologo ma i paesi che tu hai citato che si sono astenuti hanno votato per la russia sono dittature e quindi che cosa conta parte che non è vero perché tra i principali sostenitori della russia in questa guerra c'è l'india che non io ma gli americani definiscono la più grande democrazia del mondo quindi quando ci viene detto che questa è una guerra che mette da un lato le autocrazie cioè le dittature le democrazie non è vero perché una democrazia certamente lo è come l'india un miliardo e quattrocento milioni di abitanti dell'altro di tradizione cioè di innesto britannico è apertamente schierata con la russia apertamente cioè non lo fa sotto traccia ma non solo si aggiunge un altro elemento il senso democratico delle cose è solo occidentale non possiamo incolpare gli altri di non avere il nostro sistema istituzionale perché non è loro sarebbe molto bello se ce l'avessero sì certamente la democrazia è il miglior sistema istituzionale che l'essere umano abbia mai sviluppato ma loro cioè gli altri la maggioranza dell'umanità lo considera coloniale perché l'ha visto imporre nella storia e non lo senta appartenere alla sua tradizione per altro la che ci piaccia o meno e immagino non ci piaccia ma è un dato di fatto purtroppo la volontà popolare si esercita come consenso ovunque tradotto anche le dittature ed è orrendo ma ai noi la realtà hanno consenso che ci piaccia o meno è vero che noi siamo campioni del mondo nel senso di sdoppiamento delle nostre responsabilità per cui gli italiani durante il fascismo non c'erano non avevano capito dormivano non si erano accorti gli italiani hanno creduto profondamente nel fascismo come tutti gli storici testimoniano così i russi credono approfondamente in Putin no ma credono in ciò che Putin rappresenta sì purtroppo certo purtroppo ma se noi stabilissimo che soltanto dove c'è la democrazia si esprime la volontà di un popolo questo è cui varrebbe a dire che per millenni e millenni in Italia la democrazia per come la intendiamo noi arriva nel 1946 e meno di ieri per millenni e millenni su questa penisola dove si sono avvicendati centinaia di milioni di esseri umani questi non hanno mai avuto nessuna voce in capitolo e non può essere vero ovviamente ma noi queste cose ce le raccontiamo con una tale nonchalance che sembrano reali e beh ma l'Iran ha votato a favore della Russia ma è una dittatura sì ma la dittatura iraniana per schifosa che sia ha un consenso reale se no non starebbe lì se no ce ne sarebbe un'altra visto che certo non ci sarebbe un sistema democratico che non è nella loro cultura ci sarebbe un'altra dittatura ma diversa e il cambio di regime non avviene con le elezioni purtroppo per loro come invece grazie a Dio avviene da noi ma avviene in forma cruenta ma avviene anche in questi paesi quindi dover accettare che le cose siano diverse altrove è un passaggio doloroso ma che credo questa guerra ci imponga e mi avvia la conclusione mettendo dentro al mio discorso anche ciò che avviene in alcuni paesi che ho citato che con il nostro piglio occidentalistico e molto insulare non riusciamo a cogliere perché sotto sotto come diceva all'inizio noi siamo davvero convinti di essere lo stadio ultimo dell'umanità poi abbiamo pudore non lo diremmo in questo in questo modo ma che comunque siamo il momento più sviluppato del pianeta sì ancora lo crediamo no senza nasconderci per cui si vede che come tic ce l'abbiamo ogni volta che avviene un qualche evento in giro per il mondo esempio rivolta in Iran di questo inverno ho dedicato un intero numero a questo proprio a provare a raccontarlo nel modo cui proverò a farlo adesso molto brevemente l'impressione da qui per essere molto onesti e vedete i giovani iraniani hanno finalmente ci hanno messo un po' eh l'Iran è al mondo come persia da 25 secoli ci hanno messo un po' però finalmente l'hanno capito dai ho capito che devono vivere come noi diritti umani democrazia rispetto eccetera eccetera partendo con queste che di finire recenti le nostre è poco però per noi ce l'abbiamo avuta da sempre se se noi ci ascoltiamo parlare sembra che ce l'abbiamo da sempre ma ce l'abbiamo e questo conta gli iraniani ci sono arrivati adesso ma noi siamo proprio convinti eh poverini non proprio brillantissime ci hanno messo 25 secoli però eccoli qua adesso c'è questo regime che impedisce loro di essere esattamente come noi ma altrimenti non sognano altro noi questo non lo diciamo ma lo pensiamo nel profondo infatti ci battiamo e diciamo aiutiamoli vogliono fare la rivoluzione sosteniamo che può essere anche giusto ma non è così che una parte del paese certamente voglia rivoltarsi contro questo regime che è osceno il regime etocratico iraniano è vero che voglia vivere come noi no ma manco per niente infatti durante la rivolta iraniana che adesso è sopita c'è un passaggio incomprensibile la rivolta nasce ma lo sappiate tutti perché viene uccisa una povera ragazza di etnia kurda che non è esattamente un dettaglio in Iran anche un impero dalla polizia morale iraniana perché accusata di non indossare tremendo anche solo a dirsi il velo propriamente questa povera ragazza viene trucidata dalla polizia morale ne nasce una spontanea rivolta guidata inizialmente dalle davvero coraggiose donne anzi spesso ragazze iraniane qui si uniscono anche gli uomini più lentamente fin qui tutto bene diremmo cioè tutto male ovviamente come nasce ma tutto bene almeno la presa di coscienza lo sviluppo della rivolta poi c'è un passaggio che noi già cominciamo a non comprendere più che le donne iraniane indossano gioielli zorastriani parte che diavolo è un gioiello zorastriano visto da qui ma c'è un altro passaggio lo scorso ottobre uno dei momenti di massima tensione quando a centinaia di migliaia manifestanti annunciano di voler andare sulla tomba di ciro il grande imperatore di persia che millenni fa entrò trionfalmente a gerusalemme nel giorno in cui cade quell'anniversario vogliono andare sulla sua tomba a festeggiarlo le donne iraniane per noi roba lunare ma non vogliono vivere esattamente come noi no e proprio questo è il punto non siamo il fine ultimo della storia non ci vogliono emulare non vogliono stare a casa a vedere la televisione la sera qui si inserisce un altro fraintendimento che è tipico del nostro approccio soprattutto dell'Europa occidentale cioè il mito dei giovani senza sapere che cosa siano puntualmente arriva sempre qualcuno che dice io in italia c'è sempre ho fiducia nei giovani prima o poi lo troverete io credo nelle nuove generazioni un po' perché è ruffiano quindi la butta là eccetera un po' perché ci crede anche credo nelle nuove generazioni perché le nuove generazioni sono la speranza e sciocchezze di questo tipo ma non perché non lo siano le nuove generazioni ma in qualche cosa lo sono più di altre generazioni non si sa visto che sono esseri umani però queste cose si dicono se sciocchezze si lanciano soprattutto perché noi non abbiamo idea di che cosa siano i giovani proprio in italia specialmente ma in tutta l'Europa occidentale proprio non abbiamo nessuna idea molto semplicemente perché i giovani da noi non esistono e non è un iperbole proprio non ci sono sono la minoranza della minoranza come tutte le minoranze delle minoranze adottano atteggiamenti tic pensieri da anziani cioè della maggioranza in Europa occidentale in Italia specialmente i giovani sono profondamente anziani ma è naturale sono circondati da anziani ragionano come gli anziani l'emulazione c'è in tutti gli esseri viventi no si va ad emulare la stragrande maggioranza infatti i giovani italiani sono saggi profondamente saggi inseguono progetti nobili l'ambiente si impegnano per le generazioni successive che è l'atto meno giovane del mondo cioè pensare al futuro è l'atteggiamento più anziano che possa esistere perché un giovane è convinto un giovane vero che la morte non esista quindi neanche il futuro quindi neanche le prossime generazioni un giovane vero un anziano pensa la morte quindi alle generazioni successive l'anziano è saggio il giovane no il giovane è prepotente violento non vuole i diritti vuole prendersi il potere con le mani se è giovane sono molto meglio i nostri di giovani certo ma non sono giovani e allora noi che cosa facciamo prendiamo le nostre categorie di giovani saggi di fatto li applichiamo agli altri quindi i giovani iraniani che però sono giovani per davvero perché l'irano in età media di ventinove anni non so se ce ne rendiamo conto anche solo visivamente non so chi di voi è mai stato in un paese giovane per davvero che sono in vietnam ma anche in israele per la strada noi non l'abbiamo mai vista certe cose chi li ha mai visti milioni di ventenni in vietnam e chi li ha mai visti tutti insieme proprio ma proprio visivamente l'impatto è incredibile eccezionale e sono giovani per davvero non pensano al futuro ma non al futuro casomai a loro ma non a quello delle prossime generazioni perché non moriranno mai come ogni giovane non muore mai non può morire a vent'anni no e quindi i giovani iraniani sono giovani momenti in cui fanno la rivolta non creano una società come la nostra perché non sono occidentali e perché sono giovani i giovani iraniani che nel 79 fecero la rivoluzione hanno creato la teocrazia attuale mica l'hanno creata i vecchi hanno creato un regime massimalista e violento perché i giovani sono violenti quelli veri non è che chiedono diritti si impongono con la prepotenza come tutti i giovani che infatti noi non abbiamo qualcuno dirà meno male sono migliori i nostri probabilmente sì sono più saggi però non possiamo applicare le nostre categorie agli altri così i giovani turchi o che sono giovani per davvero a 30 anni di media come età la turchia o i giovani brasiliani o quelli vietnamiti hanno concezioni molto diverse giovani listiche e quindi sono essenzialmente spudorati sconclusionati violenti e prepotenti come un giovane per davvero e noi invece prendiamo le nostre categorie quindi l'occidente al fine ultimo il regime iraniano è un accidente della storia perché se potessero gli iraniani vivrebbero come noi no sognano la gloria imperiale degli achemenidi vanno sulla tomba di ciro il grande c'hanno 19 anni ma noi da qui in parte lo sappiamo neanche che cosa sia l'impero achemenide quindi il problema non si pone ma per noi il mondo è questo c'è tutto qui invece c'è molto di più soprattutto rischiamo di riprendere un granchio un'espressione che non si usa più da qualche secolo se pensiamo che anche le categorie di età siano le stesse nei vari luoghi del mondo neanche le generazioni sono uguali le nostre generazioni non corrispondono a quelle degli altri ma non non ci entrerà mai in testa quindi continueremo a credere nei giovani degli altri perché tanto noi non li conosciamo e ottimissimo passaggio se guardiamo a questa guerra che è condotta da un paese contro un altro cioè dalla russia contro l'ucraina e proviamo come abbiamo meno io faccio tutto da solo però è bello dirlo al plurale come ho provato stavo per dire a fare questa sera ma stavo dicendo al plurale scopriamo che un impero comunque senescente come quello russo la russia non è una società giovane sebbene sia più giovane della nostra ma di poco perché noi siamo il paese più vecchio del mondo siamo al giappone quindi ci vuole poco a batterci ma la russia non è un paese giovane di per sé questo significa che poi anche chi non è profondamente giovane tende a fare guerre imperiali non soltanto i giovani e questo ci complica ulteriormente il calcolo però nel complicarsi il calcolo diceva il mio vecchio maestro diceva quando i calcoli si complicano vuol dire che c'è di più da studiare perché non è necessariamente negativo adesso lui amava tanto studiare quindi era anche una forma di perversione però poi diceva anche quindi con questo possiamo salutarci con una nota di ottimismo visto che altrimenti ho presentato un mondo che non ha sembrerebbe almeno poi una volta faremo la serata delle buone notizie che non abbia un orizzonte di grande ottimismo lui diceva ci saranno guerre ci saranno cataclismi carestie c'è una pausa e poi diceva staremo benissimo ecco quindi questa sua profezia che però era molto utilitaristica tipica dal geopolitico geopolitico quando vede guerre e carestie vede mestiere essenzialmente quindi non deponeva granché a suo favore la prendiamo come una nota d'ottimismo se ci sono domande rispondo volentieri grazie allora dario fabbria spostato e rimesso a fuoco un tema davvero complesso e sì io darei dieci minuti di domande del pubblico però se mi consenti una domanda giusto anche per per cominciare la farei io e una domanda su un tema che mi è particolarmente caro che è quello dell'informazione e ti volevo chiedere ehm rispetto a ehm il bombardamento della diga non mi ricordo il nome è impronunciabile per me Nova Cacova ecco ehm ecco lì anche lì eh abbiamo delle accuse speculari hai un'idea di chi è la responsabilità di quel fatto lì? Ovviamente da qui non sono in grado di stabilirlo oggi eh il New York Times che non è ovviamente la la verità assoluta è un giornale di parte un giornale americano ovviamente dice che sarebbe stata fatta saltare dall'interno la diga e questo dimostrerebbe che la responsabilità sia soprattutto dai russi tanto i russi quanto gli ucraini potrebbero non possiamo neppure escludere l'errore anche se ne dubito fortemente ma potrebbero aver avuto l'interesse a farla saltare chi più chi meno i russi perché questa impedisce l'alluvione che poi adesso sta avvenendo agli ucraini di avanzare verso sud oltre il fiume di Nipro. Allo stesso modo per gli ucraini questo potrebbe avere il battaggio perché ha costretto i russi a scendere ancora a meridione cioè dover lasciare le loro postazioni intorno alla diga. Sicuramente da qui non te lo so dire come spesso le ragioni per farla saltare si possono rintracciare in entrambe le parti se dovessimo dire dentro una controffensiva così a naso che fa saltare le infrastrutture e chi si difende. Quindi potrebbero essere stati più russi degli ucraini ma è quello che gli americani chiamano un educated guess no? Cioè una un indovinare le cose in forma istruita ma niente di più. La guerra in Ucraina ha cambiato le carte in tavola secondo te per quanto riguarda ad esempio ehm la transizione ecologica ha dato il là a una deglobalizzazione? Queste sono domande una più complessa dell'altra. Transizione ecologica ha dato il là eh diciamo sì sempre alle nostre latitudini anche qui. Da noi sembrerebbe di sì usiamo il condizionale voglio che sia una speranza mi auguro proprio di sì eh per essere onesti gli stati cioè le grandi potenze non hanno mai preso fino a ieri vediamo adesso le cose cambiano sul serio la questione ecologica come si diceva negli anni ottanta oggi bisogna chiamarla green per ragioni insondabili proprio perché aveva bisogno cioè ragioni in realtà sono insondabili ha bisogno di una botta di marketing no? Per renderla più mangiabile quindi questa cacofonia del green è diventata dominante ma va bene o va male fate voi perché fino a ieri gli stati sul serio non l'hanno mai presa le varie coppe che continuano a susseguirsi sono sono così sono palliativi nel senso sono grandi propositi e promesse noi ridurremo l'emissione quindi abbasseremo la temperatura di x gradi entro è come la previsione a cento anni tanto non è che io governo che adesso prendo questa promessa tra cinquant'anni ci sarò ci sarà il cinquantesimo governo probabilmente in Italia che si è succeduto e dirà che era colpa mia se quello ha fatto questa promessa eccetera eccetera oggi oppure in maniera ancora più seria le grandi potenze utilizzavano la questione ecologica per colpire le altre per esempio gli americani per molto tempo hanno utilizzato questione ecologica per colpire la produzione industriale di cinesi indiani dicendo inquinate troppo dovete produrre meno oggi sembrerebbe invece che ci sia una maggiore consapevolezza perché perché abbiamo sperimentato sulla nostra pelle che essere così dipendenti dagli nitrocarburi in quanto tale quanto tali può essere molto negativo però a mio modesto avviso io credo molto poco per essere onesto all'aspetto strategico geopolitico della transizione ecologica nel quale a volte vengo un po' tirato per la giacca cioè dobbiamo farlo anche per essere indipendenti questa è una sciocchezza nessuno diventa indipendente da niente cioè nel momento stesso in cui tu ti dai soprattutto all'elettricità abbandoni il fossile sei dipendente da dove si produce l'elettricità se tu ti dai alle energie rinnovabili se dipendente dal paese che produce pannelli solari ed è la cina in larghissima parte dovrebbe bastare ma evidentemente non è così anziché l'indipendenza che tanto non appartiene a questo mondo il miglioramento della qualità della vita si vive meglio dovrebbe bastare anziché si paga e quello si paga costa anche per carità ma questo è un tema molto annoso che poi c'è sempre stata la triba tra lo stato e le aziende chi paga le aziende dicono soprattutto i sussidi statali cioè sempre noi lo stato dice no soprattutto voi oggi sembra che forse un punto in conto si possa trovare più facilmente in fondo la campagna mediatica tutta occidentale appunto non la scambiamo per mondiale se ne parla solo qui quella riguardante l'ambiente eccetera stia avendo un effetto positivo sulla deglobalizzazione a cui tu fai riferimento il discorso è molto più complesso il semplice motivo che la deglobalizzazione dovrebbe vedere quello che si chiama lo scoppiamento tra stati uniti e cina quello che in inglese dice decoupling cioè questo allontanarsi definitivo che gli americani non vorrebbero che ad oggi ancora non c'è ma che potrebbe avvenire in un breve medio periodo quindi oggi la globalizzazione in sé strutturalmente ancora esiste non se la passa benissimo ma ancora esiste tuttavia in una competizione come quella statunitense e cinese che va approfondendosi che nei prossimi anni esista ancora per come l'abbiamo immaginata no questo è è più complicato a meno che la cina non imploda prima questo non lo possiamo escludere la cina ha enormi problemi strutturali e sente di dover far presto ma proprio perché sente di dover far presto questo forse accelera la deglobalizzazione domande eccolo lì ci diamo dieci minuti va bene sì sì per me sì quindi domande domande brevi per cortesia come mai in italia si studia poco la storia e quel poco in questo modo io sono di parte perché come è stato raccontato sto scrivendo il manuale di storia per i licei quindi ma io credo che in realtà tutti i paesi che sono po storici in questo caso va utilizzato ciò che si credono oltre la storia come nostro cioè che la storia sia finita essenzialmente che la grande storia quella anche schifosa dolorosa che ha contraddistinto l'umanità sia finita noi più o meno ne siamo convinti infatti questa guerra ci sembra lo è un incubo ma ci sembra un incubo temporaneo poi torneremo tutti a vivere quasi esattamente come facciamo prima eccetera eccetera noi abbiamo avuto un eccellente lusso che Dio ce la cresca avremmo detto qualche tempo fa di vivere in questa bolla che è stata determinata dal fatto di stare nel campo americano e quindi leggemone cioè l'alleato maggiore va usiamo questa espressione al monopolio della violenza e la guerra la fa la decide da sé noi mandiamo dei contingenti random e basta ma non è perché l'umano è cambiato perché non c'è più la sfida fra potenze che noi non lo siamo più una grande potenza e dice che c'entra con lo studio della storia quando si diventa post storico cioè in questo senso la storia sembra non abbia più valore è un dramma dei drammi la storia è senza alcun dubbio tutto ciò che di più importante c'è non esistono disciplina più importante della storia la fisica nucleare non è neanche paragonabile all'importanza della storia perché tutto ciò che fa parte di un processo di continuità così come il business non lo è anzi se noi prendiamo tutto ciò che è storico perde di valore le varie ricette dalla filosofia all'economia che si danno in forma storica non hanno valore non è che puoi applicare la filosofia di kirkegaard in tutti i luoghi in tutti i laghi come diceva un grande poeta che è riuscito anche a vincere un festival oppure applicare una ricetta economica e prenderla perché ha funzionato nell'inghilterra della prima metà del novecento prenderla adesso applicarla al paraguai eppure è esattamente ciò che si fa nell'assenza di una dimensione storica la storia è tutto ciò che rende tridimensionale le questioni che in tutti i campi senza la storia sono bidimensionali quindi io sono un ingegnere mi hanno insegnato che il circuito si fa in questo modo vengo da te lo realizzo poi scopri che anche se l'hai realizzato bene non funziona perché le condizioni storiche antropologiche non hanno reso lo sviluppo possibile per come le immaginavi tu o la popolazione non l'ha voluto e perché se avessi studiato la storia te lo potevi immaginare ecco ad un ingegnere non è chiesto di capire il mondo ovviamente con altro mestiere lo stesso tempo però dovrebbe visto che notevoli capacità in quanto ingegnere e la storia bisognerebbe inserirla in tutti i campi ma evidentemente una mia deformazione perversione però noi in quanto convinti che la storia sia finita la storia non la studiamo più credo che sia quasi quasi naturale in un certo senso. Un'altra domanda? Sì magari con il microfono visto che siamo anche in diretta streaming e approfitto anche per ringraziare Sergio che si sta occupando la questione tecnica. Allora le volevo chiedere noi siamo di fatto in guerra con la Russia cioè riforniamo di armi l'Ucraina la sanzione a sanzioniamo la Russia ma alla fine che cosa ce ne viene? Cioè è una domanda che spesso mi pongo visto che questa non è una guerra per difendere i valori della democrazia ma ci sono degli interessi strategici ben precisi. Gli Stati Uniti e i paesi se fossimo un paese russofobo tipo non so la Polonia cioè posso capire che abbiamo tutto l'interesse perché effettivamente è una minaccia la Russia ma per noi italiani anzi è stato un ottimo partner commerciale un alleato nella lotta contro il califato e quindi contro l'integralismo musulmano che di fatto ci minacciava basta pensare agli attentati del Bataclan. Lei dice allora a noi che cosa perché non ci conviene essere contro la Russia no ho capito la sua la sua domanda anzitutto parto dal presupposto che lei ha detto noi siamo in guerra con la Russia questo non è un passaggio banale è la verità non è un passaggio banale perché oggi ma non solo il nostro paese in occidente diciamo nell'Europa occidentale si racconta esattamente il contrario cioè una volta quando i paesi entravano in guerra anche da remoto anche marginalmente pensate che adesso all'intervento della proto Italia ancora non era unita nella guerra di Crimea che fu a proposito di Russia decisivo per la nostra unità fu una grande idea che becavur all'epoca si diceva esattamente il contrario cioè anche quando si entrava in una piccola guerra lontana con un piccolo contingente o con aiuti si diceva siamo in guerra che bisognava mobilitare l'opinione pubblica cioè farla prendere di responsabilità metterla davanti allo sforzo oggi si fa esattamente il contrario cioè la si tratta come una sorta di massa indistinta che tanto non capisce o non capirebbe e quindi noi probabilmente non c'entriamo niente cioè nessun politico direbbe che noi siamo in guerra quello che lei ha detto stasera che la verità non lo direbbe nessuno dal l'ultimo o il primo fate voi politico di sinistra quello di destra su questo sono tutti d'accordo noi non siamo in guerra tuttavia lei dice noi che centriamo con la Russia beh qui il discorso è un po' diverso senza noi se la Russia se tutti avessero fatto il ragionamento che lei dice a noi che ce ne importa noi inglesi ma che ce ne importa di quello che fa la Russia in Ucraina gli spagnoli figurarsi ancora meno i portoghesi ancora meno che stanno sull'oceano atlantico se la Russia si fosse presa l'Ucraina interamente a noi proprio strategicamente non è vantaggioso anzi è un problema perché non c'è scritto da nessuna parte che finisca lì la Russia non ha nessun mezzo per andare oltre benissimo malissimo fate voi ma nel momento in cui si prende un paese che è il più vasto d'Europa dopo la Russia stessa l'Ucraina il più vasto paese d'Europa dopo la Russia stessa impone immediatamente la sua volontà come fatto compiuto ai paesi limitrofi a quel punto tra noi la volontà della Russia che non è un paese normale un paese imperiale come provate a spiegare c'è un solo grado di separazione che è quello della cintura dei paesi dell'Europa centrale quindi la Russia impone in forma vicaria anche la sua volontà a noi non è un vantaggio cioè non è perché la Russia non ha i mezzi di prendersi l'Ucraina oggi allora sembra un paese serafico così ha sbagliato strada e si è trovato da quelle parti poi quello è detto giustamente che non ci sono i valori della democrazia queste sono è parte della propaganda ovviamente perché non ho ben capito quali siano i valori della democrazia sì ma i valori occidentali non ho mai capito quali siano se parli di valori occidentali nel resto del mondo ti ammazzano quindi li lascerei da parte però noi lo facciamo apertamente l'occidente eccetera il punto è che una Russia che si allarga sul continente è svantaggioso per tutti i paesi intorno da sempre nella storia qualsiasi paese voglia allargarsi noi scegliamo abbiamo scelto di stare nel campo americano abbiamo perso una guerra gli americani sono arrivati qui ma la fortuna di stare nel campo americano e come diciamo questo ci porterebbe un po' lontano il ragionamento che gli americani sono molto lontani geograficamente ed è la loro grande fortuna tutti i paesi della massa euroasiatica quando devono scegliere tra Cina e Stati Uniti Russia e Stati Uniti scegliono sempre gli Stati Uniti tutti nessuno escluso il Vietnam che è un paese formalmente comunista proprio il partito comunista segretario del partito comunista è un partito unico è un alleato degli Stati Uniti d'America con cui ha combattuto negli anni 60 una durissima guerra che ha anche vinto oggi un alleato degli Stati Uniti perché perché ha un nemico maggiore che la Cina che ce l'ha qua gli Stati Uniti stanno su Marte cioè vivono dall'altra parte del mondo ecco la Russia per noi se si fosse presa l'Ucraina sarebbe arrivata per capirci a poche migliaia di chilometri da qui da qui proprio dove siamo gli Stati Uniti stanno a migliaia e migliaia di chilometri da qui e quindi non è vantaggioso che la Russia si allarghi mentre ci conviene di più stare nel campo americano quindi avevamo i nostri motivi abbiamo i nostri motivi per fermare la Russia anche se non ci interessa io ci metterei anche questo ma che sia stato invaso un paese che non aveva fatto niente alla Russia che sia stato fatto senza chiedere ovviamente come tutte le invasioni lo dico come paradosso il permesso eccetera diciamo che non ci interessa proprio a livello strategico non conviene se la Russia si allarga sul continente prendiamo l'ultima domanda eccola lì buonasera scendiamo un attimo sotto il Mediterraneo Italia Libia stiamo ritornando a essere un buon partner della Libia o dopo Wagner e i turchi non abbiamo più possibilità di rientrare grazie Corrado Guzzanti direbbe la seconda che ha detto in un vecchio sketch geniale diceva spesso la seconda che ha detto che era che rendeva molto l'idea no temo che sia più vera la seconda opzione che lei ha raffigurato nel senso lei dice un partner della Libia purtroppo la Libia non esiste più quindi non possiamo esserne partner della Libia esistono coriandoli esiste sono almeno due governi che sarebbero fra di loro e divisa in due macro fazioni quindi la Tripolitania e la Cirenaica ma ci sono poi tutte le varie bande ci sono i clan ci sono i tribù che sono centrate su diverse città noi non contiamo granché sul piano geopolitica di Libia o quasi niente a dire la verità abbiamo ancora un notevole ruolo economico in alcuni casi anche molto importante attraverso l'Eni da quelle parti ma viviamo su uno strapuntino noi siamo in Tripolitania sullo strapuntino dei turchi comandano i turchi perché comandano i turchi perché mentre noi tutto ci occupavamo di serie televisive di altre questioni molto divertenti e dalla Cirenaica il sedicente generale Haftar puntava a Tripoli dove noi eravamo e siamo ed era foraggiato da russi sauditi emiratini egiziani e francesi Haftar in ma era il 2019 cominciò questa vicenda fu addirittura trattenuto a Parigi contro la sua volontà per tre giorni per spiegargli esattamente quello che voleva fare fu ricoverato ce lo mise in un'ospedale per non farlo partire mentre noi appunto guardavamo altre cose sognavamo la pace dei sensi la Turchia è intervenuta militarmente affinché Haftar non si prendesse Tripoli con i soldi del Qatar tutto ciò che fa la Turchia il Qatar non finanzia solo famosissime squadre di calcio ma soprattutto la politica estera o i mondiali ma soprattutto la politica estera della Turchia che non avrebbe un soldo per fare ciò che fa ma è pagata dal Qatar ecco la Turchia è intervenuta con dei droni che poi diventeranno utilissimi all'Ucraina anche nella guerra che si chiamano i Baraktyar sono droni che hanno colpito duramente i carri armati russi quando hanno circondato Kiev nella prima fase della guerra per l'altro progettati dal genero di Erdogan e da allora i turchi comandano noi siamo su uno strapuntino dei turchi a cui gli diamo il permesso anche per fare la pausa pranzo a Tripoli e non solo per chiudo se voi prendete una Z è una zona economica esclusiva cioè la zona marittima che un paese si intesta e dice in queste acque è tutto mio i turchi hanno firmato un accordo con il governo di Tripoli cioè con se stessi che è molto divertente profondamente esiste addirittura riconosciuto dalle Nazioni Unite che non si fanno mancare niente quando c'è una sciocchezza ci sono sempre e ha firmato un accordo con se stessa per cui a questa zona se voi la vedete sulla mappa la zona economica esclusiva cioè le acque pertinenti alla Turchia vanno da Tripoli l'ultima volta abbiamo controllato non era in Turchia e arrivano quella che i greci chiamavano la Ionia cioè arrivano a casa loro in Turchia fanno tutta la fascia del Mediterraneo orientale noi un po' meno ecco quindi no in Libia non siamo tornati ad essere protagonisti purtroppo anzi siamo nella situazione in cui siamo da alcuni anni insomma siamo appoggiati aggrappati ai turchi infatti quando davvero chiudo vediamo le elezioni turche sembra sempre il discesso degli angeli no dice ma con tutte le cose che abbiamo da fare ci stiamo a pensare le elezioni turche ecco la Turchia è un nostro vicino letteralmente proprio confina con l'Italia perché comanda Tripoli a una zona economica esclusiva che tocca le coste italiane e noi dipendiamo dalla Turchia per ciò che avviene in Libia e già questo insomma dovrebbe e come diceva no un vecchio adagio anche quando non ti occupi di politica estera tanto poi la politica estera si occuperà di te e più o meno succede sempre e di Turchia se ne parla nell'ultimo numero di domini è proprio dedicato al mondo dei turchi si chiama così Dario Fabri grazie grazie a voi vice sindaco Luisa Cigagna il direttore del consorzio di tutela me conegliano valdobbiadene prosecco di Ocg per un omaggio al nostro ospite eccoci nel frattempo insomma io vi ringrazio grazie per essere stati qui siete tutti invitati al Vindoneur che è allestito nel foyer e quindi c'è un bicchiere di prosecco un calesce di prosecco offerto dal consorzio la prossima la prossima serata quella conclusiva di Pieve incontra sarà dedicata a Brunello Cucinelli vice sindaco grazie a tutti